bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di blu stars allora mentre stavo mangiando queste belle gallettine mi è venuto un'idea guardate ce l'ho aperta se voglio su blu stars almeno se arrivo al quarto posto le devo mangiare se invece per il tipo quinto posto le devo mangiare queste gallettine le mangiare guardate se ne sentite rumore se non lo sentite faremo niente non che io mangio perché non c'è pure di farvi della bassa però non la potrei far vedere perché doveva arrivare a mille iscritti sullate la campanella e lasciate un bel like nel settembre o meno un altro sa tipo pop corn quando fai da lontano quando fai da vicino sono delle gallette del cazzo però comunque sono buone vabbè facciamo sta partita è facile vero E' molto bello! Oh, è un pollo! Ahah, 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 ahah! ora che palle dobbiamo mangiare una gallettina eccolo che ha vedi dobbiamo mangiare una gallettina io prendo un pezzo un pezzo pure gigante me lo mangio è buona però è una compagnia è una compagnia è una compagnia è normale non potrebbe essere bene è una compagnia 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 è morto E qui c'è? Ma dove sto parlando? E qui c'è il centro di mezzo? bella, bravi, cotilloriano vado male così mi sentite meglio si perdiamo questa partita no venga la cosa te pare te pare muori malamente a a a a a a Scorso! What? Ai, adicca! facciamo il terzo porto perché non è facile anzi allora prendiamo la camera ok allora prendo un bel pezzo questo qua e me lo mangi ok senza perdere deve impegnare sempre i superstars non c'è un giro, c'è un giro ui era poco d'orato, c'è un giro dai, la vai salvar non c'è un giro ok, almeno mi sono liberato di quello e la connessione dai, mori male, mori male oh, non c'è un giro non c'è un giro non c'è un giro oh non c'è un giro Allaia ma che la possiamo fare? uno di noi uno di noi tanto muore ah cazzo c'è una super è una persica ah con 220 addirittura vabbè 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 qui ci possiamo vedere questa che bella cassa vero? che cosa? mi sento fortunato quindi state dicendo che è il primo va bene va bene va bene va bene va bene l'avete voluto voi la casa è mia ti andiamo andando avanti le palle ah porco il primo ah no 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 ah che ori fia gattig 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 a Vieni qua, vieni qua, vieni qua, se le palle, vieni qua, vieni qua se le palle. a me ti parei una piazza a me ti parei una piazza la campanella delle delle domeniche è bella niente bella